Non adatto ai melati di cuore o chi ha affetto da disturbi mezzanotti. Tratta, 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 tratta su posto! Sei! Che c'è? Signor, per rendere permanente gli effetti della pozione, chi la beve deve ottenere il bacio del suo vero amore. Entro mezzanotte. Mezzanotte? Perché sempre mezzanotte? Oh, scegli me, sarò io il tuo vero amore, il tuo vero amore. Le sarò io, all'incirca. Sentite, signore, io ce l'ho già un vero amore. E dare da me, capo, avrai una soddisfatissima principessa. Siamo sinceri, sei molto più sopportabile da vedere, ma dentro sei ancora lo stesso vecchio, meschino, pungente, intrattabile, puzzone, pesito, colerico, orco, di sempre. E tu sei ancora lo stesso irritante ciucco. Sei!